Allora Facciamo Proviamo a fare così intanto Vediamo a quanto arrivo Dovrebbe essere forse lo stesso punteggio 3.900 3.690 No ma io devo provare questo Perché lo posso fare Cioè ce la faccio Non è quello il problema Cioè posso farcela così Ho chiuso per sbaglio io la diretta Comunque sì Allora stavamo parlando dello Skyward Oddio questo libro non lo so effettivamente Chi potresti darlo Perché in realtà È un buon libro Però Non mi fa impazzire Cioè dipende Dipende il ruolo Probabilmente lo darei A Lo darei possibilmente a una mona Se la vuoi fare diciamo più offensiva Starebbe secondo me abbastanza bene Allora vediamo dove si sposta adesso Oh Stavolta Probabilmente lo darei a una mona Se la vuoi fare magari un po' più offensiva Secondo me ci potrebbe stare Bene Poi altre con i Catalyst Sarebbe Ningguang Ma per Ningguang io consiglio il Solar Pearl Senza Senza Indugio Ma proprio senza Senza Indugio Punto tutto su Segugio Cioè boh Penso che il Solar Pearl sia Uno tra i migliori per Ningguang Ok adesso devo stare attento a questi cazzo di colpi Cioè lo vedi? Anche con Razor non levo nulla Allora qua approfittiamone perché Ma possiamo fare parecchi danni Curiamo Razor Questo lo merita poverino Allora qua questa Questa la dobbiamo sfruttare Dai dai su Guarda 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 quanti secondi mi sta facendo perdere Guarda quanti secondi mi ha fatto perdere Guarda Cioè ma veramente? Guarda 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 No è veramente una cazzata Havete visto quanti secondi si è mangiato Cioè io non ho Veramente Non ho parole Di quanti secondi Si sia mangiato Non ce la faccio Perché qua mi serviva L'elemental di Zhongli Aspetta Si Ce l'abbiamo fatta Che culo Madonna alla fine